Allò? E l'avvocato De Marchis che parla? Telefono a proposito di quella cosuccia, di quella cambialetta. Come? Cambialona? Addirittura non si va in galera per una cambiare. Comunque sto telefonando per dirle che ho molte cose che stanno volendo in pentola. E qui massimo 24 ore io finisco in galera. Ah, ridaglie, ma lei mi trascina con questa galera, abbia pazienza. Io sono un gentleman, io sono un proprietario di cavalli, ho una scuderia. Ma quale scuderia, signor Presidente? C'è un cavallo solo, soldatino, il cavallo più rimbambito d'Europa che non vince mai.